Il ritorno di Bob Iger, il presidente che ha portato agli azionisti un ritorno di oltre il 550 per cento nei suoi 15 anni precedenti alla guida di Disney, è stato accolto positivamente da tutti quanti. L'amministrazione delegata è una sorta di simbolo di prosperità ed è responsabile di una parte importante dell'attuale forma dell'azienda Disney. Non si possono avere tuttavia le stesse parole di elogio per il precedente CEO Bob Cepec, rimosso da pochi mesi che ha sperperato soldi a destra e manca senza aver avuto un reale piano o almeno così pare. Ciao a tutti bentornati sul canale Io risparmio, come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziaria e autore del libro da meno 35 mila zero in 18 mesi, libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo voglia acquistare, dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da un addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi sia il link della versione cartacea che di quella Kindle qui sotto appunto nella descrizione di questo video e di tutti quanti gli altri che ho pubblicato. Sebbene cauto nelle sue previsioni Iger dopo i risultati del quarto trimestre del 2022 non ha accennato ad una catastrofe imminente, al contrario ha accennato a un possibile pagamento di un piccolissimo dividendo per il 2023 con la possibilità di aumentarlo negli anni successivi. Dopotutto l'azienda Disney cresceva da più di 100 anni perché dovrebbe scomparire a causa del fatto che per un po' di tempo qualcuno, senza far nomi, ha speso soldi male. Secondo quello che traspare a Bob Iger non piaceva l'idillio finanziario della divisione Disney Media & Entertainment Distribution che includeva, se così si può dire, buoni amici dell'ex presidente Bob Chapek. Ne è dimostrazione del fatto che la sua recente decisione di licenziare 7 mila dipendenti compendo principalmente proprio la divisione sciolta per tagliare i rami secchi ossia le strutture che generano molte più spese non necessarie e renderle più o meno controllabili. Ciò potrebbe potenzialmente aiutare l'azienda anche se il clima economico si deteriora in modo significativo e decisioni austere di questo tipo in periodi più o meno burrascosi sono sempre apprezzati dai mercati. Iger ha creato un piano per risparmiare 5.5 miliardi di dollari. Per il quarto trimestre del 2022 Disney ha realizzato entrate per 23.51 miliardi di dollari contro i 23.44 di previsioni e utili per azioni che hanno superato le aspettative di oltre il 10%. Tuttavia niente ha battuto il risultato dei consolidati parchi a tema dove ha registrato entrate per 8.1 miliardi contro profitti per 3.1 miliardi di dollari. Oltretutto come sempre Disney è associata a quasi tutte le generazioni esistenti per i suoi contenuti originari e diciamo così coinvolgenti. Ognuno trova il suo, la sua piccola nicchia. Quindi Iger ha annunciato un ritorno a marchi iconici e una linea di entrate di base. Il CEO è chiaramente un uomo con un fiuto di affari piuttosto importante e personalmente una volta che ho conosciuto della sua esistenza è diventato un mio idolo. Infatti molto presto i parchi a tema aiuteranno a monetizzare l'enorme successo di creature come Avatar di Creature of Water con nuove attrazioni e così anche la Disney vuole moltiplicare i profitti dai contenuti che ha costruito al cinema. Avatar sicuramente non sarà un caso isolato. La cosa più importante non pagare più del dovuto. Iger non risparmierà sui sequel già annunciati di Toy Story of Frozen su quali verranno sicuramente tessute delle trame dei profitti da affidare sulle prossime generazioni di piccoli spettatori. Inoltre intende concentrarsi su franchisi globali più forti Star Wars, Marvel e Pixar Animation Studios. Quello che conta per gli investitori ed è come detto la filosofia di Iger sarà di risparmiare ovunque il profitto sia incerto o scarso. Un caso a parte è sicuramente Disney Plus. Ha registrato una massiccia perdita di quasi 1.5 miliardi di dollari e un deflusso di 2.4 milioni di abbonati che ora si attestano a 162 milioni. Da questo punto di vista molti se non tutti non se lo aspettavano e se una perdita di fosse stata sicuramente non di questa portata. Ma come dicevo prima Disney Plus non sarà dismessa ma saranno da trovare delle politiche che la portino alla redditività. Il piano di licenziamenti è stata sicuramente una correlazione a questa necessità. Come di solito accade nei mercati l'eufaria potrebbe rapidamente trasformarsi in disperazione e viceversa. Al momento sembra che grazie a queste notizie sulla ristrutturazione e il rientro di Iger la positività la faccia da padrona ma come si sa negli investimenti bisogna far parlare i numeri sul lungo termine e non la pancia con magari un 6% su base giornaliera o ad una singola sessione di contrattazione. Da maggio dello scorso anno le azioni Disney hanno registrato un vendimento del 6% il che non è certo un motivo per dare grassi date le performance degli ultimi anni e tutti i rischi e le incertezze che hanno circondato e circondano tutta l'azienda. Quindi detto questo come sempre non bisogna essere né ottimisti né pessimisti su Disney ma realisti. Far parlare i numeri e infatti ad esempio per tornare a parlare di Disney Plus sebbene infatti il numero degli abbonati non fosse quello che la maggior parte delle persone si aspettava la direzione ha posto una forte enfasi sulla priorità di andare in redditività con questo segmento e la narrativa della ristrutturazione ha calmato momentaneamente le acque ma bisogna sempre tenere conto che la concorrenza non è andata via anzi è diventata sempre più agguardita e il problema della redditività non è proprio uno scherzo. Certo Disney può contare su un marchio che conoscono anche i sassi di Matera e il strutturale è bello per i mercati ma può sempre indicare come penso sia in questo caso delle difficoltà soggettive dell'azienda. Infatti se si ponderano bene le cose il boom dei parchi dovrebbe essere analizzato molto più a fondo e per bene. La domanda repressa durante il periodo di picco pandemico e la forte spesa dei consumatori hanno portato la divisione a raggiungere dei profitti record appena in tempo per compensare il calo della redditività dei media e dell'intrattenimento. Questo sviluppo molto atteso è stato il secondo pilastro che ha dato agli azionisti la speranza che ci sia un'inversione di tendenza nella bassa redditività dei media e dell'intrattenimento e che potesse coincidere con i parchi e con le esperienze con margini sostenibili più elevati. In effetti non ci sono stati elementi una tantum da richiamare durante l'ultimo trimestre ma sembra probabile che la domanda repressa della pandemia sia giocando un ruolo della spesa pro capite degli ospiti anche se questo non lo posso provare al 100% sicuramente fino alla fine del 2023 ma la mia idea più o meno si basa su questo contesto. La direzione inoltre non ha ribadito di aspettarsi che il margine operativo trimestere record all'interno del segmento sia la norma per il futuro e ha ricordato che il primo trimestre di ogni anno è stagionalmente quello più forte o uno dei più forti. Prima del mega accordo per l'acquisizione di 20 century fox e della nuova strategia per dare la priorità alla quantità dei contenuti rispetto alla qualità al fine di promuovere i propri servizi di steaming Disney veniva scambiata a multipli di circa tre volte le vendite grazie ai margini operativi dell'azienda di circa 25% e i dati dei multipli sembrano indicare che si stiano già scontando dei miglioramenti sui margini. Anche se questo non è certo un brutto segno bisognerebbe sempre essere come dicevo prima realisti e essere in grado di giustificare aumenti ampi di sostenibili dei margini della Disney nel prossimo anno se gli attuali multipli di valutazione devono rimanere ai loro livelli elevati. Anche supponendo che l'ambizioso piano di risparmio dei costi di 5.5 miliardi di dollari venga raggiunto immediatamente e senza conseguenze si arriva a un margine operativo di circa il 14 per cento che è ampiamente in linea con l'attuale multiplo delle vendite di Disney. Realisticamente tuttavia la Disney deve eseguire in modo impeccabile questo processo di ristrutturazione affrontando anche l'affaticamento del pubblico con alcuni dei suoi francesi di maggiore successo. Potrebbe succedere, nessuno lo spera e nessuno lo crede ma potrebbe comunque succedere e mi riferisco ad esempio a tutto l'universo Marvel e a Star Wars e ultimo ma non meno importante senza perdere quote di mercato. Tutto ciò è sicuramente uno scenario possibile ma non altamente probabile. Devo ammettere che a mio parere i giorni peggiori di Disney sembrano essere alle spalle alle sue condizione che l'ambiente macroeconomico rimanga favorevole che il management esegua il nuovo piano di riduzione dei costi quello 5.5 miliardi in maniera impeccabile. Detto questo ho una forte visione e non previsione realzista del titolo e ho ampia fiducia in Boy Biker e nella sua mentalità che vedo in grado di affrontare anche eventi contrari così come ha fatto in passato e credo anche con molta sincerità che potrei aggiungere in questo 2023 una piccola tranche di Disney nel mio portafoglio personale. Bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi? Hai già Disney in portafoglio un watch list o pensavi di inserirla? Fammelo sapere nei commenti qui sotto se questo video è stato il tuo gradimento poi ti chiedo di supportarmi veramente con pochissimo lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo ma per me significa veramente tantissimo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e diritti arrivederci a un prossimo video. Ciao a presto!